Da dove vuoi partire? Dalla doppietta o dal punto e dal pareggio? Non so se sei più contento da una parte o più dispiaciuto per come è finita la partita. Ma l'ho detto ai ragazzi, preferivo farne uno e vincere la partita. Purtroppo è andata così, mi dispiace perché c'è stato un contropiede a 5 minuti dalla fine e prendere un gol così è poi un rigore che secondo me non c'era. Nelle ultime tre partite gli arbitri non hanno dato tanto rispetto alla Cremonese perché sono stati sempre arbitragi contro di noi e questo dispiace perché è una società che merita rispetto. E con quello che ha detto invece il misto del Renate, che l'andata alla partita è stata completamente diversa anche perché mancava proprio Kirillov. Non lo so, non lo so se sia per questo, però oggi credo che è stata dura è stata dura perché loro hanno messo la partita sull'agonismo, sulle seconde palle c'era il campo che non ci permetteva di fare un bel gioco quindi noi dovevamo giocare sul piano loro, adeguarci e non è stato facile al di là dei miei due gol anche io facevo fatica a girarmi e a puntare all'uomo proprio per la loro compattezza, per la loro aggressività. Anche se possiamo dire che sei in un momento di grande forma. Sì, finalmente sto tornando a segnare, a fare quello che mi hanno preso e gli attaccanti dobbiamo incidere sulle partite. Io ho lavorato tanto dopo l'infortunia a tornare in forma diciamo la forma è arrivata un po' tardi però forse è più importante fare bene al ritorno che all'andata. Ecco, il Renate che ha cambiato modulo rispetto all'andata vi aspettavate questo tipo di gioco? Lo stesso allenatore ha detto che sono arrivati tre giocatori nuovi quindi abbiamo cambiato modulo. Sì, il mister è molto preparato quindi sapeva e sapevamo eravamo preparati sul loro tipo di gioco e l'ho detto è una squadra che non costruisce più di tanto è una squadra che cerca le seconde palle infatti ci hanno fatto corso quello mi dispiace però credo che bisogna ripartire dalle cose positive che anche oggi ci sono stati quindi andare avanti sulla nostra strada insomma è quella la cosa più importante.